Era stato convocato presso il centro vaccinale del distretto sanitario 60 di Nocere Inferiori, allestito presso il presidio ospedaliero Umberto I per effettuare la quinta dose di vaccino, ma la mail ricevuta è frutto di un errore nella piattaforma informatica che genera le convocazioni. L'episodio ha interessato una persona anziana di Mercato Sanseverino, ma non si esclude che anche altri cittadini possono aver ricevuto analoghe convocazioni errate. L'uomo era stato convocato presso l'ospedale di Nocera nella giornata di ieri per effettuare il vaccino, ma il figlio si è insospettito e ha chiesto spiegazioni perché non solo l'anziano ha già effettuato quattro dosi di vaccino, ma non era a conoscenza che l'ASL stesse procedendo alla somministrazione addirittura di una quinta dose. E di fatto non esiste alcuna convocazione per quinte dosi e l'ASL è al lavoro in questi giorni per la campagna relativa alla somministrazione della quarta dose solo per particolari categorie di popolazione, come ha ribadito anche questa mattina il responsabile dell'area COVID dell'ASL di Salerno, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, che invita a diffidare da queste convocazioni. La mail ricevuta indica con precisione orario e luogo dove effettuare la somministrazione ed anche la necessità di presentarsi muniti di documenti e tessera sanitaria, insomma per filo e per segno convocazioni identiche a quelle che il signor Antonio aveva già ricevuto per le precedenti quattro dosi tra vaccini e richiami già effettuati. La mail specifica anche che la casella elettronica dalla quale è stata inviata è una mail automatica e che quindi non è possibile inviare domande, ma che per qualsiasi esigenza o difficoltà il paziente può prendere contatto direttamente con l'ASL. Da qui la scelta dei familiari dell'anziano destinatario dell'assurda convocazione di chiedere spiegazioni all'ASL prima di recarsi presso la struttura e la scoperta dunque che si tratta di una falsa convocazione. Allo studio dell'ASL ora è analisi di altre mail analoghe, in ogni caso se ci sono altri cittadini che le hanno ricevute, sono pregati di contattare l'ASL e in ogni caso di non recarsi perso le strutture perché si tratta di un errore della piattaforma informatica.